Racconti e versi di vita. Si intitola così la prima edizione del concorso letterario dedicato a Maria Mercuri, grande amica e sostenitrice della Lilt di Bari, dicono gli organizzatori, deceduta il 18 novembre 2010. L'evento è stato organizzato dalla Lega Italiana Lotta a Tumori, sezione di Bari. Nella sala consigliare della provincia cinque racconti e altrettante poesie sono stati letti dagli attori baresi Tiziana Schiavarelli e Dante Marmone. Le letture sono state accompagnate dal violino di Lucia Forzati. Solo quattro delle dieci opere finaliste, due per ciascuna categoria, hanno ricevuto il premio Maria Mercuri. I due racconti più votati dai 50 giudici popolari in sala sono stati Fratelli Unici di Antonio Stella e Ho creduto o peccato di Silvio Madonna. Per la sezione poesie i primi due classificati Sogni di donne di Mina Antonelli e Cercando di Paolo Polegato. Il premio letterario si è svolto come ogni concorso a premi che si rispetti, con l'ascolto degli iscritti in gara e successiva votazione. Infine lo spoglio con tanto di tabellone dove annotare l'esito del voto e quindi la proclamazione dei vincitori.